Violauto Centro Auto Noleggio Scopri la nostra innovativa formula di gestione della tua nuova moto, auto o veicolo commerciale. Piaggio Liberty da 99 euro al mese o Fiat Panda da 199 euro al mese. Vieni a trovarci o telefona al numero verde 800 776 128. Violauto Centro Auto Noleggio, località Poggio Pudano, Crotone.